Boh, guarda che video mi tocca fare, in gabbia. Parliamo di recensioni temporane. Ciao a tutti, sono Marco di Fanshop e oggi, come vi ho anticipato, parleremo di recensioni temporane, nello specifico un prodotto che io ritengo molto 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 interessante. L'azienda produttrice è Tenax e il prodotto in questione si chiama Limit Garden. Vediamo qualcosa di più. Iniziamo col dire questo. L'idea è interessante perché permette di recintare temporaneamente un'area. Scopriremo dopo quali vantaggi e insomma gli utilizzi migliori per questo prodotto. Secondo me, non voglio mettere in bocca parole all'azienda produttrice, ma questo prodotto è nato da una variazione di un prodotto che già facevano, che si chiamava Limit. In questo caso la rete che voi vedete verde qua è arancione, ma la struttura, il concetto è uguale. Nasceva un po' per recintare temporaneamente appunto i cantieri. Secondo me hanno sviluppato l'idea appunto sull'utente privato, quindi sull'utilizzo più residenziale, cambiato il colore della rete, dato forme diverse e ne siamo qui. Iniziamo col dare le misure. Questo modulo di pannelli è lungo 4 metri per altezza 1, vuol dire che qua davanti a me vedete un metro di pannello, ne ho un altro metro qua di fianco, uno dietro e uno di fianco. In questo caso mi sono ingabbiato in un metro quadro di recinzione, diciamo così. Il prodotto appunto è, tra modulo e modulo si possono muovere, si possono aprire come sto facendo io adesso e quindi si può dare alla forma che vuole. Ma prima di dirvi questo voglio darvi altre caratteristiche tecniche. Partiamo dalla rete. La rete in HDPE, quindi politilene alta densità, protetta ai raggi UV, quindi rimane stabile sì nel suo colore che nella sua forma nel tempo e non patisce i raggi solari. Il telaio di queste strutture sono in tubo di ferro zincato, hanno un diametro di circa 25 mm, direi abbastanza robusto. La maglia della rete è 33x65 mm. La struttura nel suo insieme è attossica e lavabile in qualsiasi momento con acqua. Le misure, le ripeto comunque, sono moduli, sono kit diciamo da quattro pannelli da un metro, quindi quattro metri per uno. Ultimo, ma non per questo meno importante, è un prodotto che è stato approvato dai dog trainer. Sì, mi collego subito infatti agli utilizzi. Quali sono gli utilizzi di questo prodotto? È un prodotto che prettamente va a chi ha animali, cani, allevamenti di cani, insomma agility, dog, queste cose qua insomma. Perché? Perché permette appunto di recintare temporaneamente i nostri amici animali. Potrebbero essere negli allenamenti, potrebbero essere nelle lezioni appunto che fanno il personale addetto a questo tipo di mestiere, insomma. Secondo me, e per esperienza personale di come l'abbiamo venduto, ha anche altri utilizzi, cioè un pochino più, diciamo, privato, che potrebbe essere quello di recintare temporaneamente un'area nel giardino per i bambini, per un picnic, insomma. Potrà magari far ridere, però è così, mette in sicurezza temporaneamente un'area. La cosa fighissima di questo prodotto è che è pronto all'uso. Voi lo acquistate e questo modulo, questi quattro pannelli, lo aprite ed è bello che fate, insomma. Non richiede nessun tipo di montaggio. E qui ci colleghiamo all'argomento posi in opera. Dicevo prima che è molto molto facile. Nel solito grado di posa da 1 a 5 va sicuramente al grado 1. Ripeto, lo si apre dalla scatola dalla confezione e lo si posa per terra. Stop. Cosa può succedere? Può succedere che si abbiano delle situazioni diverse. Quindi facciamo un'ipotesi. Se uno avesse un terrazzo e volesse fissarlo, esistono, a parte, questi accessori che sono dei piedini in metallo, potete vedere, che hanno, presentano due fori, qua, uno qua e uno qua, per poterli fissare per terra, ad esempio con un tassello. E hanno questo particolare inserto che va infilato sotto, quindi si incastra, si incastrano i due moduli, come se fosse così, vado a incastrare un modulo qua e un modulo dall'altra parte di qua, e il pannello sta su, diciamo, in modo abbastanza robusto. Per chi invece lo posiziona su terreno ma vuole più stabilità, esistono anche qua accessori come questi picchetti, che hanno la punta da un'estremità per poterlo infilare nel terreno, nel nostro giardino, e sopra, dall'altra parte, riproducono quella particolare forma schiacciata che va a infilarsi nei giunti, tra un pannello e l'altro, quindi si incastra anche qua il pannello, in questo modo qua, così, e rimane su. Secondo me questo è un prodotto che veramente ha molti vantaggi ed è poco capito, perché sono pochi gli utenti che hanno acquistato questo prodotto, noi recentemente ne abbiamo venduto una trentina di pannelli, così, ad un utente privato che aveva problemi nel suo giardino, appunto, per far scorazzare i cani, ma il fatto è che voleva quest'area temporanea, perché poi avrebbe cambiato casa, insomma. Quindi, cosa c'è di meglio che una soluzione del genere? Se il cane, ovviamente, è sufficientemente piccolo, educato per stare qua dentro, che sia ben chiaro. Però, tutto sommato, è un prodotto veramente interessante, facile, arriva in una confezione di cartone che occupa un metro per un metro, spessore circa 10 centimetri, quindi è relativamente facile da trasportare, e una volta ripiegato lo mettete comodamente a sosta, occupando, ripeto, poco spazio, come se fossero un po' delle sedie pieghevoli, tanto per capirci. Bene, questo video termina qui. Io ora mi sgabbio, esco di qua, come vedete si può aprire, vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, spero di esservi stato utile spiegandomi un pochino meglio questo prodotto. Rimane il fatto che sul nostro sito, e anche su quello della Tenex, potete trovare magari altre caratteristiche tecniche e altre foto. Purtroppo qui, per motivi di dimensione del prodotto e di set di ripresa, non potevo farlo vedere tutto completamente, aprirlo, smontarlo, però insomma, credetemi, è veramente facile, è veramente un prodotto interessante. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e di visitare appunto i nostri siti www.rteplastic.it e www.fanshop.eu per il nostro e-commerce, dove all'interno potete trovare anche questo prodotto. Lasciate commenti se ne avete. Ciao ciao! Comunque non ho resistito, vi faccio vedere una volta piegato com'è. Eccolo qua, è leggero e guardate quanto ingombra. Me lo prendo a valigia e me ne vado. Ciao!